Nell'allora Montolmo si svolgeva una gara equestre all'anello detta della Margutta, dal nome di un rozzo saracino dalle sembianze femminili che si issava nella piazza in occasione di fiere e mercati, come tramandato dagli storici locali. E' la rievocazione che si ritropone ogni anno la prima domenica di settembre a Corridonia con la Contesa della Margutta, gara che chiama a sfidarsi i cavalieri delle sei contrade preceduta dal corteo in costume per le vie della città. La sera prima si rinnovano i cerimoniali per la nomina dei priori e le manifestazioni di giubilo per la festa della città. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS